Ascoltandovi parlare, ho capito. Il Partito Comunista Cinese è un gruppo ateo, demoniaco e ostile a Dio. Il demone personifica Satana. È la reincarnazione di altri spiriti malvagi ed è nemico giurato di Dio. Sì, è così. Quando Dio incarnato si manifesta qui negli ultimi giorni, è soggetto alla repressione violenta del Partito. È inevitabile. Sì, infatti. Ma i pastori e gli anziani della comunità sono servitori di Dio che leggono le scritture. Oltre a non studiare l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni, la giudicano, la condannano e li si oppongono. È vero. È incredibile tutto questo. Sì, infatti. È normale che il Partito condanni l'opera di Dio, ma perché i pastori e gli anziani religiosi fanno la medesima cosa? Sì, infatti. È opportuno chiarire questo aspetto. Fratello Zhang, fratello suo, ci spiegate meglio. Sì, condividete il vostro pensiero. Sì, vogliamo sapere. Che il governo comunista reprima e condanni il Lampo d'Alevante è normale. Si tratta del più ateo e satanico dei regimi. Ha condannato sempre le religioni e perseguitato molti cristiani. Giusto. Ma la maggioranza dei pastori e degli anziani insegnano la Bibbia e servono Dio. Infatti, se il Lampo d'Alevante viene condannato da loro, vuol dire che c'è un problema. Senza dubbio. E qual è il problema? Non lo so. A mio avviso, la comunità religiosa non sbaglia. Siete d'accordo? Che ne pensate? Amen. Che stai dicendo? Come puoi affermarlo? Collega Wu, Ti dispiace chiarire in base a quale logica stai affermando questo? L'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni non è la vera via solo perché viene condannata? Sì. È in base alla parola di Dio che lo affermi? I pastori e gli anziani, secondo te, sono Suoi strumenti. Davvero lo conoscono? Possono stabilire come Dio venga, appaia e operi? Se rifletti su tutto questo, come puoi trarre una conclusione simile? Non puoi. È del tutto arbitraria. La Bibbia la legge da anni. E non puoi non sapere in che modo i sommi sacerdoti, gli iscrivi e i farisei vessarono e condannarono il Signore Gesù. Sì, infatti. Sono anni che credi. Perché veneri i pastori e gli anziani? In chi credi veramente? In loro o nel Signore Gesù? Ascolti la parola degli uomini o quella divina? Se è in Dio che hai fede, perché veneri i pastori e i anziani? Perché obedici agli uomini se credi in Dio? Infatti, perché? Io dubito molto che tu creda davvero nel Signore. Giusto. Giusto. Non ha senso. Se posso prendere la parola. Non ha senso continuare a seguire. Infatti. Sì. La questione sollevata ora è davvero critica. E quasi nessun credente sa rispondere. Sì. Giusto. Dio si è incarnato due volte e due volte ha incontrato la condanna e la resistenza dei governi e delle comunità religiose. Ciò dimostra che la vera via è sempre perseguitata. Amen. Lodi a Dio. Amen. A molti sfugge questo aspetto. E soprattutto, non si spiegano la condanna dell'opera di Dio da parte dei vertici religiosi. In realtà, non c'è niente di strano. La prima volta che il Signore Gesù si manifestò per operare, subì la condanna, la bestemmia e l'arresto da parte dei sommi sacerdoti, degli scribi e dei farisei. È vero. Questi fatti furono chiaramente scritti nella Bibbia. Sì. Eppure i sacerdoti, gli scribi e i farisei dovrebbero conoscere e servire Dio. Ma per quale ragione allora condannarono e perseguitarono il Signore Gesù incarnato? Forse la loro fede ingiungeva di crocifiggere il Signore Gesù quando sarebbe venuto? No, no, certo. No, appunto. E perché commisero simili atti contro Dio? Perché? Dio Onnipotente ci ha svelato il mistero. Leggeremo la Sua parola adesso. Evviva! Addio! Ringraziamo Dio! Addio a Dio. Dio Onnipotente dice, Volete sapere qual è il vero motivo per cui i farisei si opposero a Gesù? Desiderate conoscere la sostanza dei farisei? Essi erano pieni di fantasie sul Messia. Per di più, credevano soltanto che il Messia sarebbe arrivato, ma non ricercavano la verità della vita. E così ancora oggi essi sono in attesa del Messia, perché non hanno alcuna idea di quale sia la via della vita e ignorano quale sia la via della verità. Dite, queste persone così stupide, ostinate e ignoranti, come potrebbero guadagnarsi la benedizione di Dio? Come potrebbero contemplare il Messia? Resistevano a Gesù perché non conoscevano la direzione dell'opera dello Spirito Santo. Non avevano alcuna idea di quale fosse la via della verità descritta a parole da Gesù. E inoltre non erano in grado di comprendere il Messia. Dal momento che non avevano mai visto il Messia e non erano mai stati in Sua compagnia, commisero l'errore di tributare un insulso omaggio al nome del Messia, mentre si opponevano alla Sua sostanza con qualsiasi mezzo. Fondamentalmente, questi farisei erano ostinati e arroganti e disobbedivano alla verità. Il principio della loro fede in Dio è, per quanto sia profonda la tua predicazione ed elevata la tua autorità, tu non sei il Cristo a meno che tu non venga chiamato il Messia. Non è forse un punto di vista del tutto assurdo? Non lo si può definire ridicolo? È vero, sì, è davvero ridicolo. Vi chiedo di nuovo, non è estremamente facile che voi commettiate gli errori degli antichi farisei, dato che non avete la benché minima comprensione di Gesù. Sei capace di discernere la via della verità? Sei in grado di garantire con sincerità che non ti opporrai a Cristo? Riesci a seguire l'opera dello Spirito Santo? E se non sai dire se ti opporrai a Cristo oppure no, questo vuol dire che la tua vita è già prossima alla morte. Sì. Coloro che non conoscevano il Messia erano tutti capaci di opporsi a Gesù, di rifiutarlo e di calunniarlo. Quelli che non comprendono Gesù sono tutti in grado di rinnegarlo e di vituperarlo. Esattamente. Inoltre, riescono a considerare il ritorno di Gesù come un inganno ordito da Satana, e più persone condanneranno Gesù che ritorna a incarnarsi. Tutto questo non vi spaventa? Dovrete affrontare la bestemmia contro lo Spirito Santo, la rovina delle parole dello Spirito Santo per le chiese, e il rifiuto di tutto quello che è stato detto da Gesù. Che cosa potete guadagnare da Gesù se siete confusi fino a questo punto? Come potete comprendere l'opera di Gesù nel momento in cui torna a incarnarsi su una nuvola bianca se rifiutate di ammettere i vostri errori? Sì. Io vi dico questo. Coloro che non accettano la verità, ma si limitano ad aspettare ciecamente l'arrivo di Gesù su nuvole bianche, bestemmieranno senza alcun dubbio lo Spirito Santo e rappresentano la razza che dovrà essere distrutta. Amen. Sì. Adesso tutto sembra di me. Mi ho compreso il senso. Ringraziate Dio. Ora leggo io. Ok. Quelli che leggono la Bibbia in grandi chiese recitano la Bibbia tutti i giorni, ma non capiscono lo scopo dell'opera di Dio. Non uno è in grado di conoscere Dio. Inoltre nessuno è in sintonia con il cuore di Dio. Sono tutti uomini meschini e privi di valore, così boriosi da voler insegnare a Dio. Anche se brandiscono il nome di Dio, gli si oppongono ostinatamente. Anche se si freggiano della definizione di credenti, mangiano la carne e bevono il sangue dell'uomo. Tutti questi uomini sono diavoli che divorano l'anima dell'uomo. Demoni che volutamente disturbano chi cerca di percorrere la strada giusta, pietre d'inciampo poste sul cammino di chi cerca Dio. Sì. Anche se essi sono fortemente carnali, come fanno i loro seguaci a sapere che sono anticristi che guidano l'uomo a opporsi a Dio? Come fanno a sapere che sono diavoli vivi che cercano espressamente anime da divorare? Questa è la verità. Giusto. Sì. I capi di ogni denominazione sono tutti arroganti e presuntuosi. Interpretano la Bibbia fuori contesto e secondo la loro personale immaginazione. Fanno tutti affidamento su doti e cultura per fare il loro lavoro. Se non fossero capaci di predicare alcunché, quelle persone li seguirebbero? Dopotutto detengono un certo sapere. Possono parlare di dottrina, sapere come reclutare adepti, usare certi stratagemmi, mediante i quali attirano le persone al loro cospetto e le ingannano. Formalmente credono in Dio, ma in realtà seguono le loro guide. Chiaro, no? Se incontrassero chi predica la vera via, alcuni direbbero dobbiamo consultarlo sulla nostra fede. Hanno bisogno di un permesso per credere. Questo non è un problema. Sì. Quindi cosa sono diventate tali guide? Non sono forse diventate dei farisei, dei falsi pastori, degli anticristi, degli ostacoli all'accettazione della vera via? Giusto. La ragione per cui l'uomo si oppone a Dio deriva da un lato dall'indole corrotta dell'uomo e dall'altro dalla mancanza di conoscenza di Dio e di comprensione dei principi della Sua opera e della Sua volontà nei confronti dell'uomo. Questi due aspetti si fondono in una storia di resistenza dell'uomo a Dio. Amen. Sì. Bene. La parola di Dio Onnipotente ci ha chiarito perché i farisei, i pastori e gli anziani religiosi resistano a Dio. Sì. Tutti hanno capito? Ora è tutto chiaro. Lode a Dio. E chi di voi vuole fare un riepilogo delle ragioni che troviamo dietro a tale resistenza? Pastori e anziani ricercano la conoscenza teologica e biblica molto più della verità. Sì. Così non riconoscono Dio quando torna. Esatto. Infatti. Già. I pastori e gli anziani sono ostili alla verità. La verità delle espressioni di Dio Onnipotente li induce a giudicare, a condannare Dio e fargli resistenza. Sì. Avete detto tutte cose giuste. Quando i farisei del giudaismo ascoltarono la parola del Signore Gesù, riconobbero apertamente che essa era autorevole e potente, che veniva da Dio. Sì. E allora perché imprigionarono comunque, condannarono e crocifissero il Signore Gesù? In fondo loro avevano scoperto che la Sua parola era verità. Se solo avessero pregato Dio per avere la risposta alla domanda il Signore Gesù è il Messia, senz'altro Lui li avrebbe illuminati. Sì. Invece loro non pregarono, né cercarono, ma lo condannarono direttamente per blasfemia. Chiesero ripetutamente al Signore Gesù, sei tu il Messia? E quando il Signore Gesù rispose loro, si rifiutarono di credere. Questo dimostra che i farisei erano veramente arroganti. Essi adoravano troppo la Bibbia e non ebbero considerazione per Cristo che esprimeva la verità. Sì. La loro logica era che a prescindere da quanta verità esprimesse il Signore Gesù o da quanto autorevole fosse la Sua parola, finché non fosse stato riconosciuto come Messia, essi lo avrebbero avversato fino al punto di inchiodarlo sulla croce. Sì. Sì. Senza croce. Sì. Voi dite dunque che quei capi giudei erano dei demoni che odiavano la verità? Sì. Se il Signore Gesù non avesse espresso la verità, avrebbero avuto un simile odio nei Suoi confronti? No. Questo disvelò la natura satanica dei farisei che odiavano la verità. Sì. Amen. Per tali ragioni, i farisei si opponevano al Signore Gesù. Amen. Così il Signore Gesù denunciò i farisei. Ma ora cercate di uccidermi, uomo che vi ho detta la verità, che ho udita da Dio. Se vi dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Amen. Sì. Ora è chiaro perché i capi giudei si opposero al Signore Gesù e lo uccisero. Quindi anche la ragione per cui gli anziani e i pastori stanno resistendo a Dio Onnipotente negli ultimi giorni è piuttosto evidente. Infatti. Amen. Sì. Adesso questa questione è chiara a tutti? Sì. È fantastico condividere. È vero. È illuminante. Chi fra noi ha sperimentato l'opera di Dio avrà capito che chi detesta la verità inevitabilmente lo giudica, lo condanna e lo rifiuta. Non è forse vero? Sì. Sì. L'opera di giudizio di Dio Onnipotente negli ultimi giorni consiste nella purificazione dell'indole satanica dell'uomo. Ma come avviene? Dio giudica e purifica esprimendo la verità. Amen. Chi accetta la verità riceverà salvezza e purificazione mentre l'indole satanica di chi rifiuta la verità non verrà cambiata. Giusto. È venuto alla luce che alcuni nemici della verità si trovavano nella chiesa di Dio Onnipotente. Questi miscredenti e anticristi sono stati radiati subito. Amen. Amen. Per quanto riguarda i pastori e gli anziani, perché essi bestemmiano e si oppongono a Dio Onnipotente? Non è forse perché Dio Onnipotente esprime la verità e ha salvato un gruppo di persone? Sì. L'opera di Dio Onnipotente li ha smascherati per cui essi odiano e condannano Dio. Ha ragione. Sì, ha ragione. La loro natura satanica è stata portata alla luce. Sì. Davvero. Dio odia e maledice questi anticristi smascherati. Perché? Perché essi per il suo popolo eletto competono con Lui tenendo sotto controllo il suo gregge e proibendo alle persone di ricevere la vera via. Sì. Operando da soli essi diventano entità demoniache che divorano vite umane. Sono maledetti e condannati da Dio in quanto recano offesa alla Sua indole. Amén. Voi dite che è questo il caso? Sì. È così. Ha ragione. È così. Proprio così. Vai. I pastori e gli anziani su quali basi condannano Dio Onnipotente? È questo il fatto da analizzare. Sì. Sì. D'accordo. Primo, per loro la Bibbia non contiene attestazioni dell'opera di Dio Onnipotente. e la parola di Dio è nella Bibbia. È scritta lì. Loro negano che si trovi anche al di fuori. Sì. E quindi negano l'opera di Dio Onnipotente. Secondo, non capiscono come siano state adempiute le profezie contenute nella Bibbia. Come i farisei seguono soltanto le regole. Giusto. Per quanto i sermoni del Signore Gesù fossero autorevoli e profondi, essi lo avrebbero avversato e perfino crocifisso finché non fosse stato riconosciuto come Messia. Sì. Giusto. È vero. È così. Terzo, essi non ammettono che Dio diventi carne. Non vogliono riconoscere Cristo nella carne. Sì. Secondo l'apostolo Giovanni, sono degli anticristi. È vero. Quarto, essi seguono le menzogne fabbricate ad arte dal Partito Comunista per negare l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni. Sì. È vero. Sì. Arrivano a schierarsi con il governo. Sperano che bandisca la Chiesa di Dio Onnipotente, anzi. Sì. Fanno veramente così. È quello che ha fatto il pastore Chiesa. Questo fa riflettere. Perché il Signore Gesù non andò a operare nella sinagoga? Perché cercò nel deserto qualcuno che avesse il cuore di Dio? Qualcuno di voi ci sa dire perché? Se fosse andato nella sinagoga, l'avrebbero scacciato. Esatto. Se fosse andato in sinagoga, sarebbe stato consegnato alle autorità dai capi giudei. Sì. Avete ragione. Se andassimo in chiesa a testimoniare Dio Onnipotente, che potrebbe succedere? Qualcosa di brutto. Ci denuncierebbero alla polizia. Infatti. Cosa deduciamo da questo? È patetico. Il clero crede nel Signore eppure non lo conosce. È vero. Giusto. I pastori e gli anziani sono perfidi. arrivano a vendere Dio, a tradirlo. Già. Noi non ci aspettavamo tutto ciò. Già. Giusto. È davvero così. Ora tutti vediamo la vera natura degli anziani e dei pastori, vero? Sì. Non ci sono dubbi. I pastori e gli anziani odiano la verità. È davvero così. Sì. È normale che rifiutino l'opera di Dio negli ultimi giorni. Sarebbe strano il contrario. Parlano soltanto di teorie teologiche e conoscenze bibliche per vantarsi e farsi adorare. Giusto. amano essere lusingati e basta. Infatti, prendono in simpatia gli adulatori. Sì. Se essi non fossero stati smascherati dall'opera di Dio Onnipotente, non li avremmo mai individuati. Sì, infatti. Su questo non c'è alcun dubbio. Ringraziamo Dio per questo. Oggi loro si oppongono a Dio Onnipotente esattamente come i farisei un tempo fecero con il Signore Gesù. Esatto. Finora non l'avevamo notato. Già. Infatti. Abbiamo ascoltato per anni i pastori e gli anziani religiosi e nessuno ha capito la verità. Infatti. Questo è vero. Se Dio Onnipotente non ci avesse rivelato i motivi e la vera natura della resistenza a Dio dei farisei, degli anziani e dei pastori, non avremmo capito che sono anticristi e servi del male che odiano la verità. Giusto. continueremo a farci abbagliare e limitare da tutti loro resistendo all'opera di Dio degli ultimi giorni. Giungeremmo a opporci e a condannare Dio Onnipotente. Sì. È stato un grosso rischio. È così. Un grosso rischio. Sì. Certo. È così. Già. Ringraziamo Dio Onnipotente che ci ha liberati dal controllo di questi individui, questi anticristi. C'è da essergli grati, vero? Amo e grazie a Dio. Rendiamoci a sapere. Grazie a Dio. Tanti mi dicevano che il Lampo d'Alevante testimoniava il ritorno del Signore Gesù. Molti buoni membri di denominazioni accettavano Dio Onnipotente. Sì. Io, però, adoravo i pastori e gli anziani. Credevo alle loro sciocchezze ciecamente. Non osavo studiare la vera via. Non seguivo il Signore. e non credevo in Lui. Mi limitavo a seguire l'uomo. Sì. Non sapevo neanche di essere ingannato dagli anticristi che stavano per mandarmi all'inferno. Hai ragione. Che rischio. I pastori e gli anziani sono i veri farisei di oggi. Sì. I demoni che non ci fanno entrare nel regno dei cieli. Sì. Sì. Sono dei demoni. Sì, infatti. Sì. 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 Sì.